Coletta d'Ozio, stamattina ho avuto la perquisizione a casa mia per una manifestazione che avevamo fatto contro il cantiere del Tav. Perquisizione e la restrizione è il fatto della firma quotidiana dai carabinieri di Sudo. Allora, che sia chiaro, io non accetto di andare tutti i giorni a chiedere scusa ai carabinieri, non accetterò che la mia casa diventi la mia prigione e quindi di conseguenza decidano un po' loro. Tanto la nostra lotta è forte, lottiamo per il diritto di tutti a vivere bene, lottiamo non solo per la nostra valle ma per un mondo più giusto e vivibile per tutti. E quindi rispetto a questo noi non abbiamo paura, non ci inginocchiamo davanti a nessuno e quindi io a firmare non ci vado e non farò neanche il fatto di stare chiusa in casa ad aspettare che vengano a controllare se ci sono o non ci sono. Siamo nati liberi, liberi rimaniamo, liberi e uguali.